Ciao, caro amico, cara amica di EsserePiù, sono Giada. Oggi voglio condividere con te qualcosa di straordinario, i benefici della meditazione. La meditazione è un dono prezioso per il corpo e la mente. Ti aiuta a rilassarti, ridurre lo stress e migliorare il benessere generale. Ma c'è un aspetto fondamentale da sottolineare, la costanza. Sì, la costanza è la chiave per sfruttare appieno i benefici della meditazione. È come andare in palestra, la palestra per anima, solo con l'allenamento costante otterrai i risultati duraturi. Se desideri approfondire la tua pratica di meditazione e imparare a essere costante, ti invito a fissare una sessione personale con Rosella Falappa, naturopata e operatrice olistica. Sarà felice di guidarti in questo percorso di consapevolezza di anima. Contattala subito! Basta rimandare! Ora ricordati di seguirci sui nostri canali social. Troverai suggerimenti, ispirazione e molto altro per migliorare la tua pratica di meditazione. Grazie per essere qui con noi. Inizia il tuo viaggio verso una mente più serena e una vita più equilibrata. Ci vediamo presto, Giada!